Il trainer, il trainer e la medaglia d'oro, a Indove 2018, partita Elisa Pietrini, ultimo binomio dell'amatorio. Il trainer, il trainer e la medaglia d'oro, a Indove 2018, partita Elisa Pietrini, ultimo binomio dell'amatorio. Il trainer, il trainer e la medaglia d'oro, a Indove 2018, partita Elisa Pietrini, ultimo binomio dell'amatorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A chiudere Danila Daya Pietrini, 125, 43, 1, 2, 5, 4, 3 per Danila Pietrini e Magic Spirit.